Eh ma non ce l'ho altri skin Come no? C'ho tipo tre skin in croce Se ci vedono vestiti così Ci pushano subito perché dicono Questi sono Ehi Frenner sono la tua migliore amica Allora Ruga Ci sono delle paroline Che mi sa che su Twitch non si possono dire Hai ragione Me ne sono accorto quando l'ho detta Spagna, terzino destro Athletic Club, Bilbao Ed è proprio De Marcos che pensavo fosse morto E a quanto pare è vivo Un fantastico primo pacchetto Ma chi è sta strappona? Che quota walkout siamo? Boh 7,8 boh Massimo Italia Chiesa Ah voi ridete Bello quest'anno FIFA Sempre Riescono ogni anno a migliorarsi Quando pensi che la merda è troppa Non è mai abbastanza Brasile DC Real Madrid Te prego Militao E poi mi sono i tezzi Poi mi sono i tezzi E voi direte, perché cappo? Solo perché Pischella ha scritto Fra ha scritto che gifta 20 sub Oh, esterno si... Oh, RASH FORDA! Altro giro, altro regalo Eh, le luci Oh, oh, eh, eh, coso? Ode Garda Manum, norvecesi che gioca nel Lazio Vedo, è stancato Ultimo pacco, pacco scuro PALLO! Pacco scureggetta Francia, Titti, Mbappé, grazie Capo, lo sapevi che la farina esplode? Quindi se la pippi hai una possibilità di farti esplodere i polmoni Io tutti i giorni non me la pipperei Porco! E non le devo insultà! E non le devo insultà! Porco Dio! Togliatemi la lingua! Porca Madonna! Era la prediction perfetta! Tagliatemi la lingua! Sottutamente Mario Icardi Brasile Eccolo! 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 E' la bimascolata nel cappone! Eccola! Eccolo! Con la maglietta del Paris Saint Germain E' bene, sono la tua migliore amica Ma che è sto video che è uscito? E' lei sbrocca contro una calciatrice? Dove cazzo è Dembele? Pronto! E rivince il contrasto Smith rivince Mamma mia mamma mia Che Dio mi fulmini Che Dio mi fulmini Guarda se dieci anni fa mi avessero detto Che io avrei giocato a un FIFA A un FIFA Con in mezzo le donne Porco Dio che pesano 30 chili Porco Dio Spostammeci 70 Occhio alla botta Ha sperato un grande Ha 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 Smith Di Frivela da centrocampo Con l'unghia del pollice Con lo smaltino rosso Neymar Palla verso Son Palla regalata Contropiede Goll Dove va il portiere? Ma dove cazzo vai? Ma vai verso la palla! Porco Dio! Vai verso il pallone! Oh sono lì Arrivo Ciao ragazzi Dobbiamo fare l'hyper motion Per i portieri Ok E poi ti ritrovi lui Punizione centrale Ma che cazzo fai con quella mano? Ma che cazzo fai? Il saluto fai! Michel Merino Oh Michel Merino De fai Il tocco per Son Ma chi è che corre più de me? Sta troia! Porco Dio! Occasione Occhio al pallone giusto Vai! Che pallone è qua! Vai! Sprinta più veloce Occhio a Neymar! Sì, regà, scusate, tu si citta Bella mongassata in compagnia dei miei splendidi amici Sta arrivare Rubino pure, eh Ma c'hai la stessa voce di Ivan Grieco Ma batte un'affanculo Dai, 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 parista scimmia, porco Dio Ma ferite sparate Ma ferite sparivo Persona, mai sentila C'hai la voce di Ivan Grieco Dai, fammi mutare prima che vi faccio bannare Ivan Grieco Niente, insultato così Fazzu Che te la ridi Poteva eggettivamente D'innettante Ma paragonate Ivan Grieco proprio Hai iniziato col piede Hai iniziato col piede sbagliato E se vorrebbe nella seconda possibilità, eh Pari, facciamo entrare, coca Capo, sapevi che se sei wikinder paradiso ci metti il peperoncino diventano kinder inferno? Forse non è vero ma sicuro ti brucia il culo dopo Achimo, te mi stai in fastidio oggi, eh La spinacina è meglio al fornino o in parella secondo te? Padella Padella? Eh, un po' di olio, un po' di frittino Però non è già fritta Non è troppo salutare però un po' di olio ci vuole No F6 se no FNF6 Aspetta un po' Oh Ragazzi mi è partita la ventola, che è successo? Sono la tua migliore amica Ma un cammino in confidazione Ragazzi FNF6 è sbagliato Proviamo F4 No, F4 no, non credo Ma Garzia ha levato Usiman No, oggettivamente raga ma che cazzo levi Usiman Eh, aspetta un attimo, eh Chi è? Pronto? Oh, Garzia, ciao Sì Come sta procedendo il piano Per smantellare un pochino Napoli e Napoletane? Ok, prossima partita Che fai? Vuoi spaccare il ginocchio di Usiman? E allo stesso tempo Distrugge la dibbia di Kvara Hai allenamento Bro No, c'è la Senza di noi non è niente Abbonato per tre mesi Ciao 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 Sono venuto a portarti un santino Che santino? Apri Ma che è sta roba? Ma che me sta a piocao per culo? No Questo è mio zio Chi è? Chi è tuo zio? Gilbert Nanà Capo della Stella Più grande d'Italia Ha record dei palleggi Di testa Porco Dio Aspettate un secondo Regà Ah porca Madò Poi Io vorrei Avrei voluto interpretare Il ragazzo con il pigiama rig E profonda Questa riflessione Il pigiama rig Parte molto emozionante Un saluto da Gianmarco Da Las Palmas Quindi da Dalla Spagna Vedi? Il ragazzo col pigiama rig Che non è il bambino col triciclo Del film Diciamo Shining Bambino col pigiama rig È un film a sé Il ragazzo col pigiama rig Insomma Quello che parla di Auschwitz Insomma I campi di concentramento Quindi un ruolo importante Quindi è nobile d'animo